Oggi li voglio così. Tagliare? Che peccato! Però ovviamente cambieremo anche la disposizione della frangetta, che nel caso tuo, secondo me, sì, quella frangetta è più indicata, va bene? Perfetto. La scalatura potrebbe anche aiutarti al tuo tipo di viso, va bene? Vedremo. Facciamo vedere quanto sono lunghi, sono lunghi, belli lunghi, li salutiamo. Facciamo allora questo cambiamento, ma le ciocche dobbiamo farle, giusto? Assolutamente. Quindi continuiamo a rimanere bella bionda. Questa è la tua base? Sì. Una bellissima base naturale. Con le mesh uscirono belle. Le vuoi fredde? Fredde. Fredde. Chiare e fredde. Chiare e fredde. Siamo pronti? Sì, iniziamo. Bene. Ma cosa c'è dietro? No, no, io non lo so, ma adesso io devo capire. Sono sempre il vicino. Cosa servono queste tavole? Allora, siccome siete conosciute come la persona che togliete il giallo, avete fatto anche qui tutto bianco freddo, bianco freddo, e oggi io devo cambiare colori, qui metto il giallo adesso. Ah, adesso tutto il giallo? Tutto il giallo, sì. E da quando io ho chiamato una ditta. La ditta mi ha mandato del vicinato, mi ha detto questo, sì. L'ha un altro vicino. Tu chi sei? Salve. Sempre il ricciolino? Ti piace il mio capello? No, non ce l'ho fatta io. Vabbè, io inizio i lavori perché mi devono pagare. Sì, sì, cominciamo. Non è sano. Lascio aperterlo. Andiamo. No. No, non ci posso accredere. Dove sono i capelli? Finiti. Non ci sono più? No. Lo sai perché non ti stupisci? Perché li volevi proprio tagliare? Sì. Sei contenta? Contentissima. Guarda qui. Corti, corti. Cambiata. Bisogna usare. Tanto poi i capelli. Crescono. Guarda questo lato che belino anche. Aspetta, se facciamo vedere. Che belino sia con l'effetto spettinato, sia se uno poi decide di farli dritti, lisci, lisci, esce comunque un bel taglietto. Può essere vaporoso. Wow. Quindi non sei dispiaciuta di tutta quella bella chioma, vero? No. No. Era un po'. Che volevo toglierla. Sì. Ok. Io ho cambiato. E tu?